A lui piace molto E.U., anche a me. Il primo pezzo che facciamo è E.U., di Pink Floyd. E i Pink Floyd sono, per me, io li adoro, li amo, diciamo così. Però non basta, per esempio, con te non ci sto, che è un pezzo dei zombie, si chiama Stepping Stone, in originale. Ce ne sono tanti, veramente. Ci sono pezzi dei Pitus, come Come Together, quindi abbiamo davvero diversa roba. Una Pasqua Beat, quella alla libreria Feltrinelli di Arezzo con il quadro d'autore. La band Aretina, nata negli anni 70 e formatasi nuovamente nel 2015 in occasione della prima edizione della Kermess per amore della musica e della solidarietà. La band ha tenuto un piccolo concerto nel sabato di Pasqua nella libreria Aretina. Lamberto Rossi, Antonio Commisso, Benedetta Meschini, Paolo Basco e Francesco Lenzi sono dunque i cinque musicisti che ci riportano indietro nel tempo con lo stile Beat Garage e con tutta la carica degli anni 60 e 70, in attesa dell'imminente edizione 2017 della Kermess Aretina. Come Together, right now, all of you. Come Together, right now. Change... Che... Che... Che...